Un'intervista realizzata per noi da Massimo Radine che ci fa conoscere un gruppo dal titolo Popcorn. Vediamo. Siamo a Coderno, là di Mariute, per conoscere una band molto interessante per il genere, ci racconteranno, ma anche per lo scopo, perché davvero fanno dei concerti che hanno uno scopo finale molto importante e ci racconteranno. La band si chiama Popcorn, siamo veramente in uno splendido posto del nostro Friuli Venezia Giulia, là di Mariute, si sono esibiti più volte proprio qua i Popcorn, siamo con Guido e i componenti della band e ci racconteranno quello che è stata la loro estate di concerti, quello che sarà poi il futuro. All'interno di Telefriuli Estate, quindi uno spazio dedicato alla musica. Guido, raccontiamo come nascono i Popcorn e chi sono i Popcorn. Innanzitutto, se non ti dispiace, io presenterei tutti i componenti. Quindi iniziamo da Giuseppe, la voce del gruppo, Roberto, batterista, Daniele, altra voce, Renato, basso e poi abbiamo Sandro che purtroppo non ha potuto esserci per impegni di lavoro. Come nasciamo? Noi innanzitutto siamo un gruppo di amici, un gruppo di amici che suonano insieme da 25 anni, si frequentano, quindi anche al di fuori della musica, per cui la musica per noi è l'obiettivo per condividere proprio un momento ludico, un momento di gioia. Ultimamente abbiamo pensato di promuovere uno spettacolo che si chiama Profumo di Vinile. È un'idea che ci è venuta perché eravamo così, in un momento in cui stavamo facendo delle cose che fanno molte altre persone. E quindi ci siamo detti, facciamo qualcosa di particolare. Abbiamo preso le canzoni più belle dei gruppi degli anni 60 e 70 e le abbiamo proposte in un modo molto particolare che è un modo teatrale di proporle al pubblico. Quindi ci siamo avvalsi anche di un attore per presentare questi brani. Abbiamo cercato di mantenere la tipicità dell'epoca, quindi i suoni, gli arrangiamenti, i costumi. Quindi tutto viene fatto proprio per ricordare il momento storico degli anni 60 e 70. Strada facendo poi abbiamo anche pensato di dare uno scopo a questa iniziativa. Quindi al di là del piacere di suonare e di stare insieme abbiamo detto ok, però facciamo sì che il ricavato di questo progetto vada a qualcuno. Noi così abbiamo deciso di dedicare questa prima trance di concerti ad un'associazione che si occupa di malati di Alzheimer che è appunto l'associazione De Maison. Il brano è quello che noi abbiamo scritto è uno di noi proprio dedicato a una persona in particolare che abbiamo conosciuto e che è affetto dal morbo di Pic e ci ha colpito la sua storia, ci ha colpito vederlo adesso e siamo riusciti a scrivere, a comporre un brano che poi ha ottenuto un buon successo perché il pubblico ha manifestato effettivamente abbiamo riscontrato da parte del pubblico un interesse molto molto vivo. Il tipo di concerto diciamo che sono delle canzoni canzoni anni 60, anni 70 quindi è un concerto teatral musicale così lo abbiamo etichettato proprio perché i brani vengono spiegati vengono elencati da un attore vengono poi spiegati viene anche raccontato qualche aneddoto qualche diciamo qualche piccola anche preziosità dei brani più interessanti, più importanti e come diceva Guido prima le sonorità, le canzoni abbiamo cercato di mantenere quello che era quello che era un po' lo spirito di quegli anni quello che era l'originalità di questi pezzi abbiamo pensato principalmente poi di presentarli nei teatri quindi la tournée è stata in primis quella dei teatri proprio perché la gente va tenuta raccolta e proprio perché questo è un racconto che va fatto e la gente deve essere attenta quindi non vanno bene i posti molto grandi non vanno bene le sagre non va bene dove la gente può essere diciamo così distratta distratta da altre cose partendo dagli anni 60 abbiamo diversi gruppi abbiamo le orme abbiamo gli annuni del sole poi negli anni 70 invece possiamo avere gruppi un attimino anche un po' più conosciuti come i Neutrals, come i Nomadi e altri meno come ad esempio gli Homo Sapiens io vorrei dire un'altra cosa per quanto riguarda invece chi ci viene ad ascoltare noi abbiamo riscontrato che molte persone si sono commosse al nostro spettacolo questo è importantissimo per noi perché noi oltre a aver riprodotto fedelmente quello che era la sonorità di quel tempo abbiamo trasmesso emozioni e questo per noi è stato un successo non da poco perché non ce l'aspettavamo per il nostro impegno comunque mensile è stato bellissimo però riscoprire anche nei giovani il fatto di riscoprire quelle sonorità un po' abbandonate ci ha sicuramente entusiasmato e rincompensato dalla fatica fatta e questo messaggio che lanciamo vediamo che viene raccolto quello di cui parlava adesso appunto Daniela questa commozione, questa emozione traspare e il complimento più grande che ci viene fatto è proprio questo cioè ci avete emozionato è questo che veramente ci ripaga di tutti i sacrifici e tutti gli sforzi che poi chiaramente non hanno un riscontro dal punto di vista professionale perché non siamo dei professionisti ma hanno un bel riscontro dal punto di vista poi dell'impegno sociale perché poi c'è anche questo aspetto che per noi è fondamentale tutti i soldi che abbiamo ricavato sono stati in parte donati ed in parte ci serviranno anche per fare il nostro prossimo lavoro che è un cd sarà un cd che i pop corn poi daranno quando faremo le altre cose noi abbiamo tre obiettivi importanti quindi realizzare il cd dove ci sarà il nostro brano ci sarà uno di noi più altre canzoni di altre persone poi stiamo preparando un nuovo spettacolo un nuovo spettacolo molto simile a Profumo di Vinile dove daremo spazio alle canzoni degli anni 50 60, 70 e 80 non più dei gruppi musicali ma dei cantanti italiani e terzo obiettivo vorremmo fare qualcosa per i terremotati del centro-sud vorremmo a breve dedicare un concerto di profumo di vinile per raccogliere quanto possibile per donare a queste popolazioni i nostri collaboratori chiamiamo così i ragazzi del service che ci seguono abbiamo chiesto loro di seguirci anche in questo concerto a titolo gratuito e hanno accettato quindi tutto quello che noi faremo tutti quelli che collaboreranno in questo concerto per raccolta fondi lo faranno a titolo gratuito e noi alla fine del concerto diremo la somma che avremo raccolto e che personalmente andremo a consegnare a uno dei sindaci dei paesi corpiti di nuovo insieme in diretta da Nemis per i terremotati